Il teatro greco è fragile, uso sfrenato dell'antica cave allarme, 11 associazioni iscrivono all'UNESCO. 11 associazioni culturali e ambientaliste, tra cui Italia Nostra, hanno scritto all'UNESCO e all'Ufficio Bene Culturale del Ministero della Cultura per lanciare l'allarme sulle condizioni del teatro greco di Siracusa. Secondo quanto emerge nella lettera denuncia, il rischio è dettato dall'uso eccessivo del monumento come contenitore teatrale, incompatibile per durata e modalità con l'attuale stato di conservazione. Il riferimento è alla recente stagione dei concerti pop e rock tenutosi nell'antica cavia, che ha ospitato 12 stelle della musica italiana. Questi spettacoli, a parere delle associazioni, avrebbero sottoposto a stress un sito molto fragile. Il teatro è scavato in una calcarenite tenera e porosa, un fango carbonatico litificato di origine marina che presenta una porosità molto elevata, dal 20 al 30%. Secondo la definizione del professor Lorenzo Lazzarini, esperto petrografo dell'Università di Venezia, che ha lanciato ripetute allarme sullo stato del monumento, spiegano le associazioni, per cui tra decibel, spettatori di tipologia ben diversa da quella degli abituali stimatori delle tragedie classiche, e la copertura protatta nel tempo, i danni alla fragile struttura ossea del monumento rischiano di essere enormi. Inoltre, nell'analisi dell'associazione, le vicende storiche, visto che il monumento è stato per alcuni secoli sede di mulini ad acqua, con conseguente continuo ruscellamento di acqua su tutta la cavia e le condizioni ambientali, tra cui le escursioni termiche, l'erosione eolica e la vegetazione, generano una situazione di intrinseca fragilità, che si rivela nella percepibile accelerazione del processo di degrado naturale. Il teatro greco ospita ogni anno le rappresentazioni classiche organizzate dalla Fondazione Inda. Questi eventi, secondo le associazioni, hanno un loro peso sulla tenuta dell'antica cavia. Da poche rappresentazioni si è passate a rappresentazioni giornaliere, da un mese di svolgimento a più di due mesi, dalla cadenza quadriennale a quella biennale, e infine, negli anni 90, alla cadenza annuale. Così anche per le scenografie, da pochi elementi leggeri e facilmente manovrabili, si è passate a installazioni sempre più impegnative e pesanti, che per di più vengono montate e smontate praticamente ogni giorno per la durata di due mesi, dal momento che le diverse opere rappresentate si alternano giornalmente con effetti di pesante e continuo attrito. Per questo motivo le associazioni chiedono all'UNESCO, nell'ambito della funzione di controllo che può e deve esercitare sullo stato dei beni oggetto di dichiarazione UNESCO, di voler intervenire per valutare la congruità dell'attuale uso del teatro con le esigenze della tutela, per come prescritto dalla normativa nazionale vigente e ribadito dalla stessa Carta di Siracusa per la conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche.